meravigliosi passando per paesi veneti in provincia di Padova in provincia di Venezia Padova in provincia di Padova in provincia di Venezia 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 Padova in provincia Padova in provincia di Venezia 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 Grazie a tutti. 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 Stiamo entrando al dolo. Riviera del Brenta. Riviera del Brenta. Il fiume Brenta. Grazie a tutti. 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 Vi saluto dalla chiesa. Grazie a tutti. 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 Siamo proprio in centro al dolo qui. Proprio in centro al dolo. Vi mando un abbraccio forte dal dolo. Vi mando un abbraccio forte dal dolo dalla chiesa a tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione nelle mie riprese panoramiche. Un grande grazie a tutti. A tutte le vostre famiglie meravigliose. Con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi. Grazie di tutto amici appassionati. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona. Un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Con tutto il mio cuore Francesco Marchiori da Verona. Un grande grazie di esistere e di seguirmi in ogni mia ripresa. Sei davvero fantastico, super speciale numero uno. Francesco Marchiori da Verona. Grazie di tutto. Daniele Pavan. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutto il mio cuore. Daniele Pavan con tutta la tua famiglia meravigliosa. Un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme. Sono state serate fantastiche e indimenticabili. Lui fa delle foto meravigliose. E dei video bellissimi. Andate su Facebook, Youtube. Danny Pavan. È un grande anche lui. Grazie Daniele di tutto. Ti voglio bene. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Da San Paolo e Brasile. Un grande grazie di esistere. E di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Ciao Durval. Massimo. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo. Un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. E di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Angela Birba. Una donna, un'amica, una persona super speciale numero uno. Tutto il fan club del Veneto. Tutto il fan club del Veneto. Che sostiene il mitico Pietro Galassi. Che lo saluto tantissimo. Dalla meravigliosa Liguria. Dalla fortumilia. Bellissima. Tutta la sua orchestra numero uno. E tutto il fan club del Veneto. Dalla meravigliosa di tutti voi. Dalla meravigliosa Angela Birba. Che mi segue in bici. Un grande grazie di esistere Angela. E tutti voi. Davis Consalvan. D'Alessandria. Un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutto il mio cuore. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Consalvan d'Alessandria. Un grande grazie di esistere. E di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Sei davvero fantastico. Unico. Ciao Davis. La tua bici è meravigliosa. La tua passione per la bici è stupenda. Ciao ancora. Grazie di tutto Davis. Mirka Martini da Monsedice. Una donna. Un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Mirka. Un grande grazie di esistere. E di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Ilaria Scaffali. Una donna. Un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Ilaria. Un grande grazie. Un grande grazie di esistere. E di seguirmi nelle riprese panoramiche. Grazie Renzo di tutto. Filippo Colinari. Un amico. Una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Un grande grazie di esistere. Filippo Colinari. Antonio. Il dottor da Scaffali. Un amico. Una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa. Antonio. Un grande grazie di esistere. E di seguirmi. Vittorio Salvan un amico, una persona super spettale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere Vittorio Salvan e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titti, Alex, Montanaro, Fabio, Tavares siete sempre in tantissimi che mi seguite, vi ringrazio tutti con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere vi voglio bene tutti grazie, grazie di tutto tutti voi super speciali numero uno, con tutto il mio cuore che passa per voi anche se mi sono grazie a tutti 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 stiamo entrando stiamo entrando grazie a tutti 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 super speciale un amico grazie a tutti non mi dimentico la saluto grazie a tutti 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 con tutti grazie a 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 tutti